buongiorno a tutti gli amici di messina ci troviamo in svizzera alle mitiche cascate di schaffhausen un posto veramente meraviglioso ragazzi sono in compagnia dei miei inseparabili figli mirko saluta gli amici di messina ciao e simone simone saluta gli amici di messina meglio lo voglio vedere questo ciao girati dai allora che lanci che stanno facendo e insieme agli altri amici di messina nicoluccio e consuelo è la new entry che non mi ricordo come si chiama shari che si è svegliata proprio da voi che dice ma dove mi chiami trovo ok ragazzi vi lascio da questo luogo meraviglioso e spero di venire in estate a vedere un altro luogo meraviglioso come la nostra bellissima messina un abbraccio a tutti vi voglio bene ciao